Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme, la conferma arriva durante la puntata di Verissimo del 6 gennaio Luca Onestini, durante la sua esperienza al grande fratello Vip, ha conosciuto la modella Ivana Mrazova, che ha iniziato ad intrigarlo. Nel corso delle reality, però, non è nata alcuna storia tra i due, poiché Onestini, appena lasciato da sole il sorgè, ha dovuto metabolizzare la fine della sua relazione, mentre Ivana ha dichiarato di essere fidanzata. Oggi, però, molte cose sono cambiate, la modella cecca, tornata single, ha avuto modo di frequentare l'ex tronista, anche durante alcuni eventi, che hanno avuto come protagonisti altri ex ge fini. Il rapporto tra i due è diventato sempre più forte, anche se entrambi hanno sempre affermato di essere soltanto amici. Durante l'ultima puntata di Verissimo, però, la verità è venuta fuori, i due ex inquilini della casa più spiata d'Italia sono diventati una coppia, tuttavia, per ragioni di privacy, al momento preferirebbero vivere il loro amore lontano dai riflettori. La notizia ha fatto impazzire i fan, che da tempo aspettavano lo sbocciare di questo sentimento, non resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda, nel pieno rispetto del riservo che, ad oggi, i due diretti interessati hanno voluto tenere in merito alla loro vita privata. Luca e Ivana fidanzati, usciranno allo scoperto? Secondo i giri di Valzer di Verissimo, i due fidanzati dovrebbero uscire allo scoperto, ufficializzando la loro storia entro la fine di gennaio. Probabilmente Luca e Ivana vorranno prima consolidare il loro rapporto, per poi comunicarlo ai follower, che da tempo sperano in una Lovestori. Durante le festività, Onestini e Lamrazova si sono divisi, con quest'ultima, che è volata a Praga dai suoi familiari, il giovane, invece, è rimasto in Italia ad attendere la fidanzata. L'extronista di Uomini e Donne ha dichiarato più volte di apprezzare Ivana non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto caratteriale. Dunque, le premesse per un grande amore sembrano esserci tutte, quindi non resta che attendere l'annuncio ufficiale. D'altra parte, le dediche e i messaggi carini pubblicati sui social avevano già fatto pensare ad un epilogo felice tra i due. A questo punto, non resta che attendere eventuali comunicazioni da parte di entrambi, mentre i fan sono col fiato sospeso in attesa di belle notizie, poiché molti vorrebbero conoscere maggiori particolari su questa relazione nata dopo il grande fratello Deep. Anche se Luca e Ivana in questi mesi hanno sempre parlato di amicizia, dai loro occhi traspariva un feeling che, giorno dopo giorno, stava diventando sempre più importante. Se volete essere sempre aggiornati su notizie di gossip e tv come questa, potete cliccare sul tasto segui posto in alto, accanto al nome dell'autrice dell'articolo. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS a cura di QTSS